L'attentato che c'è stato all'alba contro gli uffici della Tribunale di Sorveglianza A Trento non ci sono stati feriti indagini a tutto campo da parte di Procura e Digos Non si esclude la pista anarchica e fin dalle prime ore del giorno sono state effettuate perquisizioni Fra Trento e Rovereto ma ripercorriamo quanto accaduto nel servizio di Paola Siano Poteva andare peggio se questa bombola del gas, una bombola comunissima da cucina di media grandezza Sui 12-15 litri fosse esplosa e invece è rimasta solo annerita dall'esplosione di un'altra bomboletta Questa volta più piccola di quelle da campeggio che era stata inserita in una pentola a pressione Dove gli attentatori avevano inserito probabilmente della diavolina per innescare la deflagrazione Erano le 5.12 quando il sorvegliante del turno di notte della ronda atesina Ha sentito un forte botto provenire dal primo piano di Palazzo Europa Dove si trova il tribunale di sorveglianza oltre ad alcuni uffici provinciali e una banca Subito ha allertato la sua centrale e poi il 113 Sul posto si sono recati gli agenti della volante Seguiti a ruota dagli artificieri, dalla polizia scientifica, dai vigili del fuoco La bomba era stata piazzata al primo piano dell'edificio Fuori della finestra andata in frantumi dell'ufficio numero 16 Che si occupa di spedizione della corrispondenza Vetri spaccati e controsoffittature crollate Ecco cosa ha trovato l'impiegato che qui lavora Secondo gli inquirenti l'intenzione di chi ha organizzato l'attentato Non sarebbe stata quella di ferire qualcuno Come dimostrerebbe il nastro trovato lungo le scale che portano qui Dove sono state collocate le due bombole Messo per impedire che qualcuno passasse di lì Certo chi ha agito sapeva bene che in questa zona dell'edificio non ci sono telecamere Effettivamente quella è un'area un po' scoperta È un punto debole perché c'è la possibilità di arrivarci a qualsiasi ore del giorno e della notte La pista anarchica sembra essere quella privilegiata dalla Digos Che si sta occupando delle indagini Fin dalle prime ore dopo l'attentato Sono state eseguite diverse perquisizioni in ambienti antagonisti tra Rovereto e Trento Così come scritto anche sul sito internet di riferimento per esponenti anarchici In forma azione Sul sito si legge anche che sono stati perquisiti gli spazi di documentazione E il tavan e la nave dei folli Il primo uno spazio anarchico sulla prima collina di Trento L'altro a Rovereto Sarebbero state anche sequestrate in alcune abitazioni Bandiere, bastoni, nastro adesivo e bombole di gas da campeggio Gli inquirenti non si sbilanciano nel collegare l'episodio a casi singoli specifici in mano ai magistrati Si dice perplesso il giudice Arnaldo Rubichi e ipotizza che il gesto sia maturato fuori dal territorio trentino Certo è che in queste stanze si decide con le ordinanze chi esce o entra dal carcere O le misure di pena alternative E mai finora si era alzato così tanto il tiro Qualche mese fa sì c'era stato un lancio di un oggetto contro la porta Quella porta di vetro dell'accesso proprio allo stabile E poi era stato danneggiato il cartello che riportava l'indicazione del tribunale Era stato coperto con della vernice verde Diciamo che si è passati a un livello un attimino più alto Tra i primi ad accorrere sul posto dell'attentato davanti al tribunale di sorveglianza Il presidente della provincia di Trento Ugo Rossi Che insieme al questore Giorgio Iacobone e al commissario del governo Francesco Squarcina Ha voluto vedere con i suoi occhi le conseguenze dell'esplosione Non ha nascosto la sua preoccupazione Rossi Per questi che giudica segnali davvero brutti e da non sottovalutare Ho parlato stamattina con il commissario del governo Con il questore e anche con il procuratore Amato C'è la massima attenzione naturalmente Ci saranno anche delle riflessioni ulteriori su quanto possiamo fare Per cercare di migliorare la sicurezza È chiaro che qui però serve soprattutto una risposta collettiva E mi permetto anche così di richiamare un po' tutti a partire dal sottoscritto Coloro che hanno dei ruoli pubblici Anche così a calmare un po' i toni Siamo all'interno di un periodo difficile anche per il nostro paese Ci sono delle tensioni dal punto di vista economico Ci sono dei grandi cambiamenti in atto Serve anche un briciolo di responsabilità in più E credo che così facendo potremo anche superare questo momento Che ci preoccupa ma che affrontiamo però con lo spirito giusto Sul fronte della sicurezza il Presidente ha garantito il massimo impegno Anche da parte della Giunta Per alzare il livello di attenzione E verificare se i luoghi considerati a rischio Siano sufficientemente protetti Abbiamo già formulato la disponibilità Della provincia autonoma di Trento a poter collaborare Per cercare anche di mettere in rete magari le polizie locali In collaborazione con i comuni E naturalmente il tutto va fatto sotto la regia Di chi ha la competenza E quindi è lo Stato che deve certamente garantire L'ordine pubblico e la sicurezza Noi possiamo collaborare e lo vogliamo fare con convinzione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti